La famiglia reale britannica si trova di fronte a un periodo di grandi cambiamenti e sfide, cosa accadrà nelle prossime settimane? Kate Middleton, la duchessa di Cambridge, è al centro dell'attenzione per motivi di salute, mentre il principe Ferry potrebbe fare il suo ritorno in Inghilterra, segnando un nuovo capitolo per i Royals. Nei prossimi giorni, Kate Middleton potrebbe affrontare un nuovo ricovero ospedaliero. Dopo aver concluso un ciclo di chemioterapia preventiva, la duchessa dovrà sottoporsi a ulteriori esami medici. Questi test sono cruciali per determinare se sarà necessario un ulteriore intervento chirurgico o altre sedute di chemioterapia. L'esperta di Royal Family, Concia Calleia, ha rivelato che Kate sarà ricoverata alla fine del mese, sottolineando l'importanza di questi esami per il suo futuro. Il ritorno del principe Ferry, nel frattempo, il principe Ferry sembra intenzionato a ritornare in Inghilterra. Questo ritorno potrebbe coincidere con un momento cruciale per la famiglia reale, data la situazione di salute di Kate. I legami familiari sono stati messi a dura prova negli ultimi anni, ma ci sono segnali di un possibile riavvicinamento. Il ritorno di Ferry potrebbe portare a un rafforzamento delle relazioni familiari e offrire supporto in un momento difficile. La salute di Kate Middleton non è solo una questione privata, ma ha anche implicazioni pubbliche significative. La duchessa è una figura amata e rispettata, e il suo stato di salute è seguito con attenzione dai media e dai sudditi. La sua immagine di eleganza e compostezza ha contribuito a mantenere alto il prestigio della monarchia britannica. In questo contesto, il supporto del principe William sarà fondamentale, poiché la coppia rappresenta un simbolo di stabilità e modernità. In un momento storico di pressione per la monarchia britannica, la salute di Kate Middleton diventa un simbolo di resilienza e speranza. Con il suo impegno nelle cause sociali, Kate continua a ispirare milioni di persone nel mondo. La sua battaglia personale contro la malattia è seguita con affetto e partecipazione, rappresentando un esempio di forza e umanità. Il possibile ritorno di Ferri apre nuove possibilità di riconciliazione e unità all'interno della famiglia reale. Questo potrebbe segnare un nuovo capitolo per i royals, caratterizzato da maggiore coesione e comprensione reciproca. La presenza di Ferri potrebbe anche contribuire a rafforzare il sostegno pubblico verso la monarchia, dimostrando la sua rilevanza e impegno verso la società.